Per fortuna il tempo che ieri aveva rovinato la processione mattutina del venerdì santo è migliorato e il resto del programma si è potuto svolgere regolarmente. In cattedrale si è vissuta la crocivisione di Gesù, uno dei momenti suggestivi della settimana santa, alla quale è seguita la predica delle sette parole, poi la celebrazione della passione del Signore con adorazione e bacio della croce e ancora canti sotto la croce. Durante la celebrazione liturgica pomeridiana è stata distribuita l'Eucaristia consacrata il giorno precedente nella messa in cena a Domini. I momenti in cattedrale si sono vissuti in silenzio e in preghiera. Subito dopo le funzioni religiose Gesù è stato deposto dalla croce e portato in processione e custodito nella splendida urna. Non sono mancati i canti delle due arci confraternite, quella del Santissimo Crocefisso e della Dolorata. Oggi è tempo di preghiera. Alle 17 nel corretto della cattedrale, meditazione e canti attorno a Gesù morto. Poi nel Santuario della Dolorata, l'ora della desolata. Aggregento, come ormai tradizione consolidata, porge le sue condoienze alla madre di Gesù. Alle 23 in cattedrale, la veglia pasquale.